non solo serie B per quel che concerne la SD San Rocco Ruvo che festeggia gli ottimi risultati che sta ottenendo anche con le squadre del settore giovanile a cominciare dall'Under 21 che per la prima volta nella sua storia ha centrato le ottavi di finale di Coppa Italia nella gara di andata vittoria del cisternino sul campo ruvese con il punteggio di sei a quattro il diciassette febbraio toccherà agli uomini allenati dai mister Bonadies provare a ribaltare il risultato due ragazzi invece sono stati convocati nella rappresentativa per i raduni ormai alle porte e sono Francesco Martinelli e Sergio Diasparra classe duemiladue parliamo ovviamente dei giovanissimi a SD San Rocco Ruvo che stanno crescendo da un paio d'anni nell'habitat del gruppo della Santa Famiglia tra cui spiccano Pietro D'Amato, Pasquale Testini, Pasquale Brindici, Giacinto Iurilli e Michele Mazzone Iurilli e Michele Mazzone Iurilli e Michele Mazzone